Maurizio Capone, ideatore e organizzatore di Come suona il caos. Come è iniziata, come ti è venuta in mente questa idea? Nel 2009 ci fu la prima edizione di Come suona il caos all'Arenile di Bagnoli e creammo questo format, perché è importante che noi ci uniamo in un gruppo unico, come tu hai detto, di resistenza, che per me significa riesistenza. Cioè io soprattutto penso che il caos sia un punto di partenza indispensabile, perché nel caos c'è tutto e quindi la vera creatività, e intendo non solo la creatività artistica, ma proprio la creatività della vita, ognuno di noi deve vivere creativamente per poter sopravvivere, in questo caos c'è tutto e quindi noi dobbiamo essere capaci di raccogliere gli ingredienti, gli elementi che ci portano poi alla realizzazione dell'armonia. Perché io penso che una vita è spesa partendo dal caos per arrivare alla migliore armonia possibile che si può raggiungere individualmente e poi collettivamente. Noi che vogliamo in qualche modo creare armonia ci sintonizziamo sul sentimento e non sulla costruzione intellettuale che pure ci vuole ovviamente, però non come primo, come fatto iniziale. La comunicazione deve partire dal sentimento. Quindi io per fortuna faccio musica e i miei strumenti comunicano senza bisogno di spiegarli che c'è bisogno di amore per la terra, che c'è bisogno di amore tra le persone. Quindi poi lo spiego, poi c'è dietro anche la parte intellettuale. Però la prima cosa è che deve arrivare un'emozione, dopodiché tu apri una porta. E quindi per me, io quando vado nelle aree, termine terribili, a rischio, io ho girato il mondo facendo laboratori nei posti veramente, nelle favelas cubane, così come sono venuto miliardi di volte a Scampia, a Ponticelle, a Barra. E la mia capacità di comunicare è basata sul sentimento. Cioè quando le persone che teoricamente non sono interessate né all'ambiente, né a temi sulla legalità, su temi insomma che io porto avanti, quando però vengono, io non le accolgo, dicendo ragazzi, però noi dobbiamo capire che la legalità è una cosa che non si può spacciare la droga perché fa male, cioè tutti questi temi a questo livello non servono a niente perché diventano un ostacolo. Allora a me non mi interessa quello che tu fai nella tua vita, io ti regalo una cosa, ti do uno stimolo, ti do una scintilla che tu puoi usare come vuoi tu, puoi fare quello che vuoi tu, però questo viene da questo mondo qua. Quindi io ti rappresento un mondo con un'emozione e poi tu te lo gestisci e l'emozione, che sinceramente è molto penetrante, ti colpirà e ti porterà verso strade sicuramente... Piantare un seme, un seme della creatività come ne parlavamo stamattina.